Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Il settore dell'autotrasporto dell'Exilva sarebbe pronto al blocco delle prestazioni in tutta Italia. Questo quanto deciso nella riunione di ieri pomeriggio tra le sigle datoriali che hanno più volte sollecitato i commissari 40, Fiore e Tabarelli al confronto. Le sigle di categoria chiedono una volta per tutte la sottoscrizione di un accordo collettivo che regoli il settore dell'autotrasporto. Accordo che non può più prescindere dal recupero delle somme già avanzate dalle aziende. Secondo le sigle di categoria urge ripristinare un clima di fiducia con le imprese attraverso una serie di interlocuzioni costanti anche con i commissari straordinari. C'è grande preoccupazione per la difficoltà in cui versano le aziende dell'autotrasporto e si temono eventuali azioni di protesta del tutto incontrollate. E' stata rinviata il 13 marzo la riunione tra il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo 2026, Massimo Ferrarese, e i vertici di Sport e Salute. Sarebbero infatti emersi alcune criticità a proposito del progetto che riguarda lo stadio Erasmo Iacovone. In particolare a destare perplessità sarebbe soprattutto la copertura dell'impianto calcistico. Il tempo a disposizione è ormai ridottissimo e ci sarebbe il rischio sempre più concreto di non riuscire a realizzare quanto progettato entro luglio 2026. Un'opzione questa che costituirebbe per la città una doppia sconfitta. Da un lato infatti le gare previste dall'evento sarebbero ospitate dai comuni pugliesi già dotati di impianti adeguati. Dall'altro il capoluogo ionico perderebbe quella che a tutti gli effetti si configura come l'ultima possibilità di colmare il proprio gap sulle infrastrutture sportive. Una lavoratrice, madre di un bambino in tenera età rimasta vedova, potrà tornare al precedente orario antimeridiano in modo da conciliare vita familiare e lavoro. A deciderlo il giudice del lavoro di Taranto, che ha accolto un ricorso d'urgenza presentato dall'avvocato Mario Soggia dell'ufficio legale USB. Assunta regolarmente con le modalità contrattuali previste, la donna avrebbe continuato a prestare la sua attività lavorativa anche dopo la nascita del figlio e soprattutto dopo la morte del marito, momento a partire dal quale ha dovuto occuparsi da sola del bambino. Avendo iscritto il figlio in un asilo nido che garantiva il tempo pieno, racconta l'USB, con la permanenza nella struttura tutti i giorni dalle 8 e un quarto alle 16 e un quarto, aveva chiesto e ottenuto inizialmente dal datore di lavoro la riduzione dell'orario a 20 ore settimanali, distribuite su 5 giornate lavorative con turni antimeridiani. Pur vedendo la sua retribuzione ridursi a circa 800 euro, la lavoratrice è riuscita a conciliare i tempi di lavoro con le esigenze di madre vedova, fino a quando il datore non ha deciso di rimodulare i turni, determinando lo sforamento della fascia oraria indicata e rivendicando l'esigenza di garanzia di equità di trattamento tra tutti i lavoratori. Nel corso del processo, sottolinea l'USB, l'avvocato Mario Soggia ha ottenuto che la condizione di discriminatorietà venisse eliminata con possibilità per la lavoratrice di tornare a lavorare solo nelle fasce antimeridiane, in modo da consentirle di svolgere il proprio ruolo di madre. Lo stesso legale spiega di aver fatto ricorso al codice delle pari opportunità, laddove fa riferimento alla discriminazione indiretta. Un ennesimo tentativo di truffa ai danni di persone anziane avvenuto a Taranto nei giorni scorsi, una telefonata alla nonna, la menzione del nome corretto del nipote, la richiesta di aiuto e la frase «Se non ci credi, chiama a casa». Subito dopo come da copione sarebbe avvenuta la tentata estorsione di denaro, se non fosse stato per la prontezza dell'anziana in questione, che memore di un'esperienza simile, accaduta poco tempo fa ad una sua amica, ha subito interrotto la conversazione. Qualche mese fa, infatti, lo stesso modus operandi era stato utilizzato per tentare di truffare una conoscente dell'anziana. Nella telefonata il sedicente nipote affermava di essere in grave difficoltà e che avrebbe inviato una persona di fiducia a casa della nonna per recuperare soldi e oggetti di valore. In quel caso, però, la signora era caduta nella trappola, scoprendo solo successivamente, con grande amarezza, di essere stata ingannata. L'aspetto più inquietante di queste truffe ha dichiarato ai microfoni di Cosmopolis il nipote dell'ultima potenziale vittima e sapere che queste persone non solo conoscono il numero telefonico di casa degli anziani, ma anche i nomi corretti dei loro nipoti e dove abitano. Il ragazzo riferisce anche che la nonna, poco dopo aver chiuso la conversazione, avrebbe tentato di contattare la propria famiglia per sincerarsi di quanto stava accadendo ma sarebbe rimasta isolata per almeno dieci minuti in quanto dall'altro capo del telefono avevano appositamente evitato di interrompere la chiamata. La raccomandazione delle forze dell'ordine di fronte a quanto accaduto resta la stessa evitare nella maniera più assoluta di trasferire denaro o peggio di aprire la porta di casa o recarsi ad appuntamenti con gente sconosciuta che contatta telefonicamente o tramite internet spacciandosi per un parente o per un amico dello stesso e citando delle presunte difficoltà a cui far fronte con elargizione immediata di contanti, carte delle poste, bancomat o altri oggetti di valore. Nonostante si trovasse già gli arresti domiciliari, aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio di droga presso il suo appartamento situato al quarto piano di uno stabile di Via Lago di Monticchio. Per questo motivo un pregiudicato tarantino di 50 anni è stato condotto in carcere dalla Polizia di Stato. I falchi della squadra mobile negli ultimi giorni avevano notato in prossimità dello stabile in questione un continuo via vai di giovani, in gran parte conosciuti come abituali assuntori di droga. Eludendo le telecamere di videosorveglianza presenti all'entrata del condominio, gli agenti, dopo alcuni appostamenti, sono riusciti a raggiungere il quarto piano dello stabile, in attesa che la porta dell'appartamento si aprisse. Dopo dieci minuti la moglie del sospettato è uscita, aprendo anche la grossa cancellata che proteggeva l'ingresso della casa. Gli agenti sono piombati così all'interno sorprendendo l'uomo. A seguito della perquisizione sono stati ritrovati circa 17 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. Tre stecche di hashish e 30.000 euro in banconote di vario taglio. Arriva per la prima volta anche in una grande azienda del sud Italia, la panchina rossa, cade a Taranto nella sede di Teleperformance Italia. La panchina rossa, lanciata dal Movimento Internazionale, come simbolo del rifiuto della violenza sulle donne, è un'ulteriore iniziativa con la quale Teleperformance Italia testimonia il suo impegno nella lotta contro la violenza di genere. L'inaugurazione avvenuta questa mattina si inserisce all'interno di una staffetta ricca di eventi formativi, webinar, testimonianze esterne, consigli di lettura e riflessioni sull'importanza del valore della condivisione e dell'inclusione. Presenti all'evento l'Associazione Alzaia Onlus e l'assessore ai servizi sociali e politiche di inclusione del Comune di Taranto, Gabriella Ficocelli. Inaugurato a Taranto questa mattina, nell'area degli ex baraccamenti cattolica in via di Palma, la presenza del sindaco Rinaldo Melucci, il piazzale dei BAC Parco della Musica, una nuova agora cittadina per il borgo Umbertino che permette di riconsegnare alla comunità la piazza di questa importante area, oggetto di un significativo intervento di riqualificazione urbana che prevede il recupero complessivo degli immobili presenti e una nuova destinazione d'uso dedicata alla cultura, all'arte e allo sviluppo tecnologico. Noi siamo contenti di questa giornata perché siamo abituati a fare i fatti. Come sapete nella politica, nelle istituzioni c'è sempre un grande vociare, spesso molto superficiale. Noi invece ci mettiamo lì, lavoriamo, chiaramente il lavoro richiede tempo, richiede risorse, richiede a volte il superamento di certi ostacoli. Qui sapete che anche in termini di scavi archeologici è venuto fuori tanto della storia di questa città, però siamo contenti perché poi arriviamo alla fine e restituiamo ai cittadini, specie ai più giovani, alle imprese culturali degli spazi importanti, spazi che non tante città, specie del Mezzogiorno d'Italia, possono vantare. Il settore del commercio sicuramente potrà avere benefici da una struttura come questa perché invita la gente a star fuori, invita la comunità a raccontarsi, a incontrarsi, è una sorta di agorà nel salotto buono della città, nel centro cittadino per cui tanta gente potrà venire per godere sia dei frutti della ricerca ma i frutti proprio della possibilità di incontrarsi in comunità, di vivere l'aspetto di comunità e questo potrà far sì che invogli a fare la passeggiata, andare nei negozi, tornare a fare acquisti nel centro cittadino, sempre di più perché voglio rammentare che acquistare un bene non è soltanto portarsi a casa il bene acquistato ma anche vivere un'esperienza con il negoziante che l'ha proposta, che l'ha consigliata. Un guizzo di Fabbro regala al Taranto il successo nel derby contro il Francavilla, gara tirata nella quale i Rosso Blu specialmente nel secondo tempo hanno meritato la vittoria aggiunta ancora una volta in extremis, Capuano sceglie De Marchi e rischia Bifulco sin dall'inizio nella Virtus Villa schiera bomber artistico in tandem con Neglia. L'occasione più ghiotta del primo tempo giunge al 35esimo quando sale in cattedra Bifulco che dopo aver ricevuto la ganute salta due avversari e si presenta davanti a Branduani mettendo di esterno fuori di un soffio. La via della ripresa sembra invece favorevole agli ospiti che pronti via ci provano con Izzildo il cui tentativo scalda le mani di Vannucchi. Il Taranto pur non affondando il colpo prova a gestire i ritmi di una contesa che sembra essere in totale controllo sino al novantesimo minuto in cui Miceli sputa al centro un controcross che innesca Fabbro. L'Esto in estirada a trovare la via del vantaggio che regala al Taranto i tre punti e il terzo posto in condominio con l'Avellino. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.